È ora di alzarsi! Oggi è il compleanno di Anna e fa una festa al maneggio! Per i nostri ospiti mettiamo a disposizione ancora più box per cavalli. Il padre di Anna va di nascosto al negozio di cavalli e le compra il regalo. Ehi ma dove sono tutti? Sorpresa! Buon compleanno! Il divertimento a cavallo non finisce mai con i set da gioco combinabili di Shly. Where stories begin!